Entrenandomi con l'entrenamento in sospensione, il peregis, e tutto il mondo che mi pregunta che è solistico workout, perché tutto il mondo, il spagnolo canario, che ve l'articolo e il video che ha se Francesco Callori, nome del Denerife, mi pregunta, spiegami che è solistico workout, quindi intento di spiegartelo in un momento molto rapido, è una mezcla di allenamenti differenti, come il Pilates, come il Yoga, come il Tai Chi, come un allenamenti funzionali come per esempio la Spiral Kabat e il Pendent Kreis, e tutto questo è stato disegnato, ho fatto un un formato di allenamenti, dove si entra il corpo e le capacità di relazamento e la cabeça della mente, quindi è un formato holistico, dove è una parola che si tratta come body and mind, come corpo e mente. E alla fine di tutto questo, c'è un momento di relazamento, si chiama Home Training Meditation, dove la gente si va a relazare, haciendo esercizios di respirazione e Yoga, che si chiama Pranayama e altre tecniche di relazamento. E tutto questo è Holistico Workout, e se vuole provarlo, lo spero, qui, in Playa delle Viste, con l'Hombre di Tenerife, con Francesco Callori, e la prossima settimana, fare un taglio, un corso in Lugano, della Suiza Italiana. E nada, per tutte le informazioni, Holistico Workout, pagina di Facebook, o Francesco Callori, pagina Hombres in Tenerife. Hasta luego!